Non è più una novità che Cecilia Rodriguez abbia lasciato ufficialmente Francesco Monte per iniziare un'avventura amorosa con Ignazio Moservideo, concorrente assieme a lei del grande fratello Vip. La bella Argentina, tuttavia, ha di recente sognato il suo ex. Sono solo i sensi di colpa la causa o forse il suo inconscio cerca di farla tornare sui suoi passi Cecilia ha raccontato che nel suo sogno si trova a cena assieme a Francesco Monte. Da un tratto, però, deve andar via con Ignazio Moser. La ragazza si trova così in difficoltà, lasciare il porto sicuro rappresentato da Francesco, per gettarsi nel mare di passione scaturito dal fascino di Ignazio scelta difficile per la bella Argentina che, alla fine, sente di dover seguire Ignazio, nonostante con Francesco si trovi bene. A un certo punto del sogno, la ragazza si trova a dover attraversare un lungo e buio corridoio. Esso rappresenta forse il prezzo da pagare per aver lasciato il certo per l'incerto. L'unica cosa che resta da fare alla giovane Rodriguez è attraversare quel corridoio, dal quale ne esce sana e salva, ritrovando la luce. La luce rappresenta forse il fuoco di una nuova passione se è così, si tratta di un amore destinato ad ardere nel tempo o di una fiammella che prima o poi si spegnerà, lasciandola nuovamente nel buio. Questo non ci è dato saperlo, sappiamo però che il sogno termina con Cecilia che esce dall'oscuro corridoio. Come Cecilia ha interpretato il suo sogno dietro un sogno si possono nascondere molteplici interpretazioni, sta tutto nella psiche dell'individuo? Come ha interpretato il suo sogno la bella Argentina forse è un chiaro rimpianto per aver fatto a pezzi una storia d'amore durata 4 anni o forse sono semplici sensi di colpa che soltanto il tempo potrà attenuare la giovane Rodriguez sembra tendere di più verso quest'ultima interpretazione. Lei ammette di essere stata bene con Francesco, ma non si pente minimamente di aver seguito l'istinto che L.H. ha condotta tra le braccia della nuova fiamma. Lei verrà attraversato il lungo e bue corridoio del suo sogno e aver ritrovato la luce, la rassicura, portandola a pensare che rappresenti una sorta di lieto fine, forse la conferma che il sentimento che la lega Ignazio non sia passeggero. Per i rimpianti non c'è posto Cecilia ha confidato del suo sogno a Ignazio, ma ciò non li ha divisi. Quest'ultimo sembra intenzionato a continuare la sua relazione con la bella Argentina, facendosi pur promettere che se un qualsiasi dubbio dovesse nascere in lei, spingendola a mettere in discussione il loro amore, lui dovrà essere il primo a saperlo. Al momento la loro storia prosegue senza nessun intoppo e, dopo aver raccontato del suo sogno ed essersi sfogata, Cecilia, trova subito di letto tra le braccia di Ignazio. Ancora una volta, i due cercano di sfuggire agli occhi indiscreti del grande fratello, arrivando a nascondersi persino nell'armadio video. All'interno di quello spazio angusto, tra i baci e le tenerezze dei due innamorati, non sembrano trovare posto i rimpianti. GF VIP Cecilia e Ignazio Gossip